Da amministratore e anche da conto correntista la difenderò sempre la nostra banca. E' quindi diventato anche un caso politico il commissariamento. Neanche il tempo di legge dei giornali che il senatore Demetrio Battaglia ha subito presentato un'interrogazione con particolari che non si conoscevano. Scrive il parlamentare Regino che gli ispettori avrebbero trovato una movimentazione anomala per 25 milioni nell'ultimo triennio. Informatissimo il politico del PD su una vicenda che lambisce un'amministrazione comunale in cui il suo partito scalpita da tempo contro il sindaco Francesco Cosentino. Quest'ultimo è fratello di Giuseppe, presidente del consiglio della BBC, l'organo sciolto e da tempo centrifugato in una lotta intestina tra accordate. Contro il vertice censurato da Banca Italia non è un mistero l'attivismo di un'altra Cosentino, Tiziana, la vicepresidente che non è imparentata col sindaco. Il primo cittadino a proposito di una banca che c'è in tutte le cose che contano a Città Nuova ha diramato una nota intestandola a tutta l'amministrazione comunale auspicando una genere definizione della vicenda. Noi ad oggi non abbiamo nessuna relazione da parte di Banca d'Italia è inutile al momento andare a parlare di eventuali infiltrazioni da parte di società che non sono pulite e che sono sotto inchiesta. Il futuro incerto della banca si intreccia col presente da fiato sospeso della politica. La maggioranza di Cosentino annoverà anche il consigliere regionale Francesco D'Agostino sul quale pende una richiesta di rinvia a giudizio della DDA che è il politico ovviamente più vicino al sindaco. Agostino Pantano per la Cineus 24 Agostino Pantano per la Cineus 24